Anche a Ravenna si è svolto in stazione un presidio in segno di solidarietà con Luca Abba, attivista Notav rimasto gravemente ferito in Val di Susa, dopo essere caduto da un pilone dell'alta tensione su cui era salito per manifestare contro l'allargamento del cantiere della ferrovia dell'alta velocità. Il movimento Notav oggi vuole dare solidarietà a tutti i compagni che ora stanno lottando in Val di Susa in difesa del loro territorio. Si sono riuniti qualche settimana fa invece per andare a contestare la CMC che è l'azienda che costruirà questa TAV che si è già dimostrato contro il popolo sia a Vicenza che in Val Susa e ha già anche crimini come il disastro ambientale del Mugello sulle spalle. Grazie a tutti.